La mia idea è quella di creare una fattoria didattica, un'azienda trituristica che offra oltre alle solite attività, delle attività didattiche, quindi con base educativa e formativa per i ragazzi e le scuole, anche un percorso di tiro con l'arco da campagna, che è una specialità del tiro con l'arco, sono simulazioni di caccia, solo che invece di tirare animali veri, si tira la sagoma in tridimensione sparsa nel territorio e che si mischiano un po' con la morfologia dell'ambiente. Ciò nonostante sei stato accettato.